Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Matt e bentornati su Nerd is the Way. Bentornati sul canale, ma bentornati con un video leggermente particolare. Come avrete visto anche dal titolo, quello di oggi si tratta di un breve vlog di analisi sui prossimi contenuti che appariranno sul canale, una breve rivisitazione delle serie già in corso o semplicemente aggiornamento delle quelle attuali. Permettetemi di ringraziare davvero tutti voi che fate parte di questa nostra piccola, ma possiamo dire coesa community, che nel corso dei mesi si è venuta a creare e sviluppare. Davvero davvero grazie mille a tutti voi, perché comunque senza il vostro contributo, piccolo o grande che sia, non proverei neanche tutto quel piacere nel fare i video, dialogare, parlare con voi, ricevere i vostri consigli sotto ai video, o anche magari fare qualche chiacchiera nel Discord quando qualcuno di voi mi fa qualche proposta o mi butta delle idee per il canale. Quindi davvero davvero grazie mille a tutti voi. Io dal mio punto di vista cerco sempre di portarvi delle serie interessanti, magari sotto qualche aspetto nuove, ed è anche quello che andremo a parlare oggi, o quantomeno migliorare l'aspetto qualitativo delle stesse, basti vedere l'editing delle serie documentaristiche di Europa Universalis 4, o in generale l'aspetto di gameplay in-game direttamente, che senza dubbio è da escludere che sia rimasto uguale, ed è anzi migliorato moltissimo anche grazie ai vostri aiuti. Tanti 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 consigli mi sono serviti enormemente, quindi davvero grazie mille. Prima di tutto però adesso direi che sembra anche il momento giusto per iniziare a trattare l'argomento del video, che sarà principalmente suddiviso in tre punti. Il primo punto riguarda Europa Universalis 4. Europa Universalis 4 sarà, penso, per ancora tanto 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 tempo la serie principale del canale, soprattutto riguarda ad esempio la serie con Hamburgo, che poi è diventata Novere e a cui stiamo puntando per creare la Germania. Lo stampo della serie rimarrà sempre la stessa, quindi profondamente storico, o quantomeno mirata a sfondo storico, con delle introduzioni documentaristiche che creino una sorta di legame attraverso tutta l'intera serie, per cercare quindi di dare corposità a quello che andiamo realmente a giocare, non farlo diventare un semplice e mero gameplay. Ovviamente, come è successo per la serie della Savoia, poi trasformata in Piemonte e Sardegna e poi in Italia, prima di questa qua in corso, verso la fine della serie andrò a fare una specie di sondaggio insieme a voi per la nazione da utilizzare subito dopo. verrà ovviamente suddivisa attraverso parte delle proposte da voi, altre proposte da parte mia, e poi attraverso un sondaggio generale fatto da voi, dove potrete votare una sola nazione, avrete modo di scegliere lo Stato, il Regno, o in generale la nazione che andremo a utilizzare. Principalmente ci saranno due, massimo tre, proposte da parte mia, e due, massimo tre, proposte tra tutte quelle che voi proporrete nei commenti e che verranno maggiormente votate dagli utenti. Dopodiché verranno messe, come vi dicevo, in un unico sondaggio su Stropol, voterete la vostra preferenza e poi andremo a iniziare una nuova campagna con un nuovo ciclo. Appena arriveremo al 1821, si spera, con la Germania. Ed è proprio qui che arriva l'ultima parte di analisi della serie di Europa Universalis 4, cioè il documentario a Endgame. Per i fan più di vecchia data, ricorderete che io, alla fine della serie con l'Italia, avevo creato due episodi documentaristici, interamente narrati sullo stile di, possiamo dire, Super Quark e Alberto Angela. sull'intero gameplay di Savoia Italia, andando ad analizzare l'intero evento, l'intero evento dal 1444 al 1821, interamente come un documentario, con video, immagini e racconti. Ovviamente ci è voluto molto per realizzarlo, quindi probabilmente se decidessi di fare lo stesso anche per Hamburgo-Germania, molto probabilmente si tratterebbe di un lavoro di un mesetto abbondante. E quindi, in questo modo, la palla passa a voi. Bisognerebbe sapere se da parte vostra il video vi è davvero piaciuto così tanto, e soprattutto se ritenete che possa avere qualche modo un senso, riproporlo nuovamente alla fine di questa campagna, e magari andare a occupare il tempo di realizzazione di questo video con altre serie nel corso della settimana, magari uno o due episodi a settimana, con qualcuna delle serie secondarie. Ovviamente questo sta a voi, ditemi che cosa ne pensate, se preferite magari un video realizzato interamente da zero, come l'ho fatto con la Savoia, o magari se preferite che io tagli semplicemente le introduzioni di ogni singolo video, le metta in un unico video tutte insieme, e ve le pubblichi come un video a parte. Quindi, magari ditemi voi che cosa ritenete che sia la scelta migliore. Io al momento non ho ancora un'idea precisa, perché comunque siamo circa al 1700, abbiamo ancora un sacco di gameplay da fare, quindi non mi sono andato a fasciare la testa eccessivamente. Detto questo, passiamo al secondo punto. Il secondo punto riguarda le serie secondarie. Le serie secondarie sono principalmente le serie del mercoledì, che come potrete vedere anche dall'immagine qua sotto, e dallo sfondo, principalmente risultano essere The Banner Saga, e Medieval 2 Total War, con la campagna con la Scozia. Dunque, mi sono reso conto principalmente che sono serie che segue meno gente, e la cosa sarebbe anche legittima essendo serie secondarie. Ma la decisione di metterle entrambi il mercoledì e alternarle una volta a settimana, risulta essere molto molto dispersiva, con anche la problematica che, se uno ha intenzione di seguire una narrazione o una trama, fa difficoltà a rimanere al passo, perché comunque vedere una sola delle due serie equivalrebbe a dover aspettare due settimane per vedere un episodio nuovo. Quindi faccio io difficoltà a riprendere una serie in mano dopo averla registrata, visto che la registro pressoché in contemporanea insieme a voi, come tutte le serie, risulterebbe un po' problematico per me, immagino per chi addirittura la seguisse. Quindi la mia alternativa è stata quella di optare per portare avanti il mercoledì solo una delle due serie. E probabilmente voi per la noia nell'aspetto gestionale o anche per la vecchiezza della serie, tra le due quella leggermente meno seguita mi sembra essere quella di Medieval 2 Total War. Correggetemi ovviamente voi se sbaglio, però quella di The Banner Saga mi sembra maggiormente seguita dalle persone. Quindi io principalmente sarei propenso per mantenere solo la serie del mercoledì su Banner Saga, mentre andare a eliminare quella di Medieval 2 Total War. La serie Total War però non andrebbe del tutto cancellata ed eliminata, perché entrerebbe a far parte del terzo punto, quello che adesso andiamo a trattare. Il terzo punto riguarda principalmente quelle che potremmo chiamare le serie satelliti. Le serie satelliti sono, per fare un esempio con quelle più nuove, la serie di RimWorld, cioè serie principalmente, possiamo dire quasi monoepisodio o autonome, che hanno una lunghezza circa tra i 15-15 minuti e si basano su una realizzazione da parte mia senza precise scadenze. Quindi magari puntano a farne uscire una ogni settimana, massimo una ogni due settimane, in relazione anche ai propri impegni. Sono magari molto carine, fanno da corredo al canale, ma di sicuro non sono l'ossatura principale né un riempitivo settimanale che deve sempre esserci. Quindi di sicuro potrebbe inserirsi in questo aspetto. Riguardo a queste serie di, principalmente satellite, RimWorld rimarrà. E' successo però un piccolo problema con RimWorld che riguarda l'episodio 4. Ho giocato l'episodio 4, OBS mi odia, perché a metà della registrazione ha deciso di aggiornarsi dalla versione 16 alla versione 17.0.1 e quindi ha smesso di registrare, ha cancellato automaticamente il file che stava registrando e si è aggiornato OBS. Questo ha comportato la perdita dei file dell'episodio 4, principalmente, che, manco a dirlo, è stato uno dei più devastanti che non mi sono mai capitati. Tra sfiga in game e principalmente scelte sbagliate da parte mia, non lo nego, è successa una vera assurdità. Non facciamo spoiler, perché qui adesso lascio anche qui la terza scelta. Potrebbe essere interessante fare una specie di audio blog, mettiamolo così, dove può essere uno degli dei personaggi in game tipo Matt stesso oppure qualcuno di voi che decide di scrivere un diario o registrare un videodiario dove racconta che cosa è successo in questo periodo. Sarebbero molto breve, perché gli eventi sono stati molto molto vicini l'uno degli altri, ma sono stati davvero davvero devastanti per la colonia. Finora non siamo in una fase ancora critica di non ritorno, però vi lascio l'annuncio che è stata davvero fortemente, fortemente colpita. Quindi ditemi voi che cosa ne pensate, io sarei propenso per un audio blog magari a schermo nero con magari qualche effetto grafico che faccia vedere un po' queste immagini distorte, avete presente per tipo questi film di fantascienza con il capo della nave stellare che ha tutto l'audio blog rovinato per darvi un'idea. Quindi ditemi voi che cosa ne pensate al momento. Io però sarei propenso a continuare. Detto questo arriviamo al secondo punto delle serie di satellite, scusate non mi veniva la parola, e la serie Total War. Dunque, Total War mi piacerebbe davvero mantenerla come serie, però noto che effettivamente l'aspetto gestionale risulta essere noioso, mentre l'aspetto delle battaglie risulta essere molto divertente. Quindi ho detto perché non unire l'aspetto storico narrativo del nostro canale con l'aspetto invece ludico delle battaglie da giocare insieme? Quindi ho deciso di unirle e magari andare a creare una specie di serie mono episodica, quindi che inizia finisce con un solo episodio dove andrò a giocare solo le battaglie storiche presenti nei diversi capitoli della serie Total War. Andrò a giocare solo quella singola battaglia in ogni singolo episodio con un'analisi a inizio del video dell'evento in sé, della battaglia in sé di come i due fronti si sono scontrati e principalmente che effetti possiamo dire socio e geopolitici hanno portato a quella battaglia e soprattutto che effetti socio e geopolitici ha portato la vittoria di uno delle due parti. Da parte vostra invece dovrete decidere quali battaglie andarmi a fare giocare e soprattutto quale delle due fazioni andare o due due fronti andare a prendere le redini. Ovviamente i titoli Total War che andrò ad utilizzare saranno possiamo dire pressoché tutti quindi avrete la possibilità di scegliere attraverso Medieval 2 Total War Empire Total War sarei propenso ad escludere Napoleon Total War perché non credo che ci sia così grossa differenza rispetto ad Empire però ditemi voi soprattutto Rome 2 Total War e Attila Total War insieme anche a Shogun 2 Total War ditemi voi che cosa ne pensate di questa opzione magari può essere anche giocata in maniera goliardica con un dialogo insieme tra me e voi mentre magari io mi bevo una birretta mi bevo un tè quindi ditemi voi che cosa ne pensate è una cosa che stavo pensando a qualche giorno però mi sembra che sia davvero davvero interessante e soprattutto con l'aspetto documentaristico del canale potrebbe essere molto molto attinente quindi ragazzi mi raccomando datemi la vostra opinione sul documentario a fine serie di Europa Universalis 4 se ritenete che siate d'accordo a mantenere solo la serie di The Banner Saga il mercoledì tutti i mercoledì e invece se per le serie di satellite vi piace l'idea della possiamo dire dell'analisi delle battaglie storiche delle serie di Total War e soprattutto se ritenete la mia decisione di un audio blog per la serie di Rimworld l'episodio perso di Rimworld interessante o se avete qualche altra idea che non sia quella di magari ammazzare la serie perché tutto sommato mi piace ed è divertente quindi che dire ragazzi grazie a tutti per avermi seguito spero di non aver fatto troppi balbettamenti in questo vlog non sono ancora abituato e l'ho fatto molto a banica larga e a braccio libero quindi davvero grazie a tutti per avermi seguito grazie a tutti per il supporto e la vicinanza che mi hai dato in ogni video e ci vediamo in questo caso venerdì con il proseguo della guerra di Hannover con la quinta guerra di unificazione contro Polonia e Sassonia mi raccomando state pronti perché gli ultimi probabilmente penso due episodi della guerra saranno davvero davvero colossali ciao ragazzi a presto a presto